Buon pomeriggio, benvenute, benvenuti ai presenti in Sala dei Giganti, benvenuti a coloro che ci stanno seguendo nel canale YouTube di Ateneo. Oggi siamo qui per celebrare Elena Cornaro e lo facciamo con l'assegnazione del premio a lei intitolato, voluto e promosso dall'Università di Padova, in particolare dal centro di Ateneo Elena Cornaro e dall'Associazione Alumni e Amici dell'Università di Padova e sostenuto dall'azienda Solgar Italia Multinutrient. Allora, l'iniziativa è alla sua terza edizione e mi fa piacere informarvi che il bando del fatidico 2022, anno delle celebrazioni dell'ottocentenario della nostra Università, è già pubblicato nel sito di Ateneo, nella sezione premi e borse di studio per laureati. Diamo ora inizio ai saluti istituzionali, invitando la prolettrice alle relazioni culturali, sociali e di genere, professoressa Annalisa Oboe, e la invito a prendere parola. Grazie. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenute, benvenuti a questo incontro idealmente dedicato a Elena Cornaro, che è stata la nostra prima alunna dell'Università di Padova, la prima donna a ottenere un riconoscimento scientifico, un titolo universitario nel mondo moderno. Era il 25 giugno del 1678. Porgo un saluto molto caloroso a tutti e tutti i presenti, a tutte le ospiti e gli ospiti molto graditi che ci onorano con la loro presenza, e un saluto particolare a chi è qui con noi per ricevere un premio importante, appunto il premio di studio dell'Università di Padova, intitolato Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Saluto anche chi ci segue in streaming, buon pomeriggio anche a voi che siete lontani. Mi permetto di riservare un bellissimo saluto a colleghe e colleghi del Centro delle Culture e le Politiche di Genere, che da tre anni condivide con i suoi compleanni, con questo premio, essendo stato inaugurato il 25 giugno del 2019 e che ora è appunto fra i promotori di questa iniziativa. Questo evento si inserisce nel percorso che ci sta portando verso le celebrazioni dell'ottocentenario dell'Università di Padova nel 2022, che ormai appunto è alle porte, e vuole sottolineare e anche celebrare l'importanza della parità di genere nella ricerca scientifica, nella produzione dei saperi, nell'accesso alle carriere universitarie e accademiche, nonché l'urgenza per tutte e tutti di accedere agli stessi diritti in università e nel mondo del lavoro. Oggi Elena Cornaro, che era una nobildonna veneziana con una laurea in filosofia, è celebrata come un grande esempio di potere intellettuale, di simbolo precoce del riconoscimento sociale, della capacità di una donna di studiare, produrre conoscenza, diffondere conoscenza, anche in settori scientifico-disciplinari, diremo oggi, tradizionalmente negati o preclusi al genere femminile. In questi sei anni di mandato rettorale, che si stanno chiudendo fra qualche mese, a settembre, abbiamo riscoperto e promosso con convinzione la figura di Elena, che è diventata un punto di riferimento per le politiche di parità dell'Ateneo, un'icona e madrina dei successi delle donne, spesso ottenuti a caro prezzo. Come è successo anche a lei, figlia del procuratore di San Marco, uomo potentissimo, padre molto amato, ma lei è stata stretta fra richieste molto pressanti della famiglia, di successo, è stata stretta nei suoi desideri, nelle sue pulsioni, da un controllo sociale ferreo e ha dovuto lottare per inseguire questo desiderio di una vita semplice, dedicata al sapere, a costo del sacrificio di sé e anche del suo corpo. La vicenda di Elena Cornaro ci ricorda che abbiamo bisogno di luoghi della scienza e della formazione che valorizzino le diversità, che siano accoglienti e inclusivi, e ci ricorda che dobbiamo rimuovere le discriminazioni ancora diffuse nei confronti di studentesse e colleghe e soprattutto che le donne devono porre fiducia nelle proprie competenze e potenzialità, perché possiamo lavorare libere, serene, sapendo che ci spettano gli stessi diritti e le stesse opportunità e responsabilità. Abbiamo sentito il 2022 proprio dietro l'angolo e il mio auguro di oggi è che tutto l'Ateneo tenga presente questa tensione verso la parità e che così facendo possa dare un'impronta sempre più democratica ed equa al suo nono secolo. Il riconoscimento che adeguiamo oggi contribuisce a questo progetto perché riguarda la partecipazione delle donne agli otto secoli di storia dell'Ateneo Patavino e come ogni anno sarà un momento di condivisione dei successi e anche un momento di festa. Mi fa piacere ricordare che il premio non esisterebbe senza il sostegno fattivo, duraturo e anche convinto dell'Associazione Alumni dell'Università di Padova, dell'Associazione degli Amici dell'Università e di Solgar Italia. Vi sono, vi siamo davvero molto grati per averci consentito di fare di questo premio uno strumento di scouting, cioè uno strumento per la scoperta di storie, di talenti, di ricerche al femminile che altrimenti non emergerebbero alla nostra attenzione e non sarebbero giustamente valorizzate. Infine, anche per questa edizione, la cerimonia include un momento molto atteso, importante, di ascolto di una voce che interviene sulle questioni che ci stanno a cuore. Nelle precedenti edizioni abbiamo avuto con noi Lella Costa e Melania Mazzucco. La nostra ospite oggi è Michela Murgia, che saluto e ringrazio per essere qui e che terrà una lezione sul rapporto fra libertà, parole e parità di genere, nel segno di una riflessione, come appena visto anche lei, sempre aperta sul linguaggio e sui rapporti fra linguaggio e potere che stiamo portando avanti anche noi in Ateneo. Chiudo qui, buon pomeriggio e buona festa a tutte e a tutti. Grazie. Grazie alla nostra prorettrice per il bel saluto e l'introduzione. Invito ora a portare i saluti in rappresentanza dell'Associazione Alunni dell'Università di Padova alla dottoressa Beatrice De Bacco, che ha fatto parte della commissione che quest'anno ha valutato gli elaborati e quindi ha potuto esaminare tutte le proposte ricevute. Buonasera, buonasera a tutte e buonasera a tutti. Per me è un grandissimo onore, oltre che un grandissimo piacere essere qui questa sera. Vi porto il saluto del nostro presidente Gianni Dal Pozzo, che per motivi di lavoro imprevisti non può essere qui tra noi, e di tutta l'Associazione Alunni dell'Università di Padova. L'Associazione Alunni dell'Università di Padova nasce nel 2015, quindi è relativamente nuova, però conta già più di 31.000 iscritti ed è nata per il volere del socio fondatore, che è l'Università di Padova, e del socio sostenitore, che è l'Associazione Amici dell'Università di Padova. La sfida di questa nostra associazione, che poi mette in rete tutti coloro che hanno condiviso i valori del nostro Ateneo e che hanno vissuto bellissimi anni in gioventù, ma non solo, perché la nostra sfida è quella di ripensare e far rivivere il rapporto con l'Università a tutti i livelli. Quindi è aperta, diciamo, aderiscono all'Associazione gli ex studenti, ma non solo gli ex studenti, anche chi poi si è diplomato, si è specializzato, ha fatto un dottorato o si è perfezionato in una delle scuole dell'Università di Padova. Lo statuto, il nostro statuto che è recente, è stato approvato nel 2019, riconosce l'irrinunciabile capitale di conoscenze, di relazioni e l'impegno profuso da docenti, ricercatori e dipendenti dell'Università, tutti. Quindi è aperta a tutti e mette in rete, diciamo, l'entusiasmo di tutti e i valori che tutti condividiamo. L'Associazione Alumni poi supporta e condivide le politiche di genere portate avanti dall'Università di Padova e quindi con grandissimo piacere ha sostenuto fin da principio questo premio, che a me è particolarmente poi caro e sono molto affezionata, che ho seguito fin dalla prima edizione e che appunto vede, è intitolato a questa donna che è la nostra prima alunna e la prima donna laureata al mondo. Quindi è un motivo di grande orgoglio per me che poi vivo prevalentemente negli Stati Uniti dove coordino il chapter degli alunni dell'Università di Padova a New York. È proprio un motivo di grandissimo orgoglio ricordare questa figura e legarla alla storia gloriosa del nostro Ateneo. Ovviamente questo è un, come è stato già detto, è un progetto che si inserisce in un progetto molto più ampio che arriverà poi alla celebrazione degli 800 anni della nostra Università e quindi siamo tutti molto impegnati in questo. Un particolare, un particolare congratulazione alla vincitrice che poi verrà premiata, ma a tutte le partecipanti che hanno sicuramente presentato dei progetti di grandissimo interesse. Passerei la parola al prossimo, al prossimo saluto e poi sono curiosa di sentire Murgia che ha scritto un libro che io amo, Grisù, che l'ho amato, me lo sono portato e poi me lo firma, magari. Grazie. Grazie anche alla dottoressa De Bacco. Effettivamente siamo tutti e tutte molto orgogliose della nostra prima alumna. In rappresentanza dell'Associazione Amici dell'Università di Padova, la dottoressa Elena Morello, che ha fatto parte anche lei della commissione che ha valutato e giudicato gli elaborati che hanno partecipato al bando della terza edizione, è anche presidente del Comitato per l'imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Padova. Prego. Buonasera a tutti. Inutile dire che per me è un onore, un grande piacere essere qui in questa sala che da sola si spiega questa sera. Come sono stata introdotta, sono qui a rappresentare, a portare i saluti istituzionali da parte dell'Associazione degli Amici dell'Università di Padova, ma in realtà ho appunto questo duplice ruolo perché rappresento anche un amico speciale appunto dell'Università di Padova che è appunto la Camera di Commercio, nella figura appunto di presidente del Comitato per l'imprenditorialità femminile. È un onore particolarmente sentito proprio per questo duplice ruolo. L'Associazione questa sera, che non ha qui il suo presidente, che mi onoro appunto di ricordare il presidente del Sole per il quale appunto vorrei portare i saluti, ha una mission che è quella di creare un rapporto molto intenso tra il mondo della cultura, sapere, la formazione e il tessuto economico sociale della nostra provincia e della nostra regione. E credo che in questo il Comitato per l'imprenditorialità femminile si riconosca appieno. Il nostro ruolo di imprenditrici e l'associazione fatta appunto di professionisti, di imprenditori è proprio quello di voler valorizzare il ruolo della donna in tutti i settori. L'Università lo fa in maniera eccelsa attraverso la valorizzazione della cultura, la formazione appunto femminile e noi nel Comitato per l'imprenditorialità femminile cerchiamo di portare il nostro supporto alle donne imprenditrici, alle donne che cercano di cambiare il territorio e certamente questo è possibile quando c'è una base culturale, una formazione molto molto importante. Due parole mi sento di dire a nome appunto di questa associazione che è stata voluta dall'allora rettore Bonsembiante nell'89. è stato un rettore lungimirante in questo senso perché ha saputo cogliere appunto il valore di questo importante intreccio tra il mondo della cultura, la formazione, quindi il valore della donna che si spende nella ricerca e l'importanza e ciò che la donna riesce a dare può dare come imprenditrice, come professionista appunto per valorizzare il tessuto economico della nostra regione in realtà. Come Comitato stiamo portando avanti molti progetti e credo che questa sinergia, questa collaborazione importante con l'Università di Padova ci aiuterà a compiere a pieno anche la nostra missione perché, ripeto, non si possono fare grandi lavori, non si possono apportare grandi cambiamenti se non c'è dietro una forte formazione, una forte base culturale. Quindi auspico che questa sia non solo la terza edizione ma in realtà per me la prima, ma la prima di una lunga serie perché certamente pone le basi per un'amicizia sempre più forte tra l'Università di Padova e la Camera di Commercio. Grazie, un augurio importante alle vincitrici alle quali appunto auguro non di aver raggiunto questa sera un traguardo ma di fare dei loro progetti, un qualcosa che avrà veramente una ricaduta importante sul territorio Veneto. Buona serata e buona continuazione. Grazie. Fin dalla prima edizione del premio la dottoressa Anna Giuliani, presidente di Solgar Italia, ha sostenuto il premio e la sua filosofia per vicinanza di intenti. Oggi non è potuta essere qui con noi per precedenti impegni ma è presente la vicepresidente, dottoressa Giada Caudullo, che chiamo per un saluto. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Con grande piacere, come sono stata anticipata, che oggi rappresento l'azienda che sostiene per la terza edizione questo bando di concorso, il premio di studio intitolato Adelina. Ringrazio tutte le autorità, i partecipanti, la professoressa Annalisa Obwe, che è proretrice alle relazioni culturali e di genere, nonché madrina di questa iniziativa che richiama l'interesse e l'impegno di numerosi studenti e laureati. Ringrazio inoltre l'Associazione Alumni, il presidente, i suoi componenti, l'Associazione Amici degli Alumni di questo Ateneo Patavino, in cui mi sono laureata circa vent'anni fa in psicologia clinica. Solgar Italia, l'azienda che rappresento, è società che nel 2022 compirà 30 anni di operatività nel campo dell'integrazione nutrizionale, contraddistinta da qualità, eccellenza e rigore scientifico. Un campo, quello della nutraceutica, in cui per aumentati fabbisogni dell'organismo è possibile promuovere benessere e salute. Un'azienda con personale fino al 70% di genere femminile e che ha da sempre focalizzato la propria mission nella didattica scientifica, coerente e sempre aggiornata. Solgar Italia, nel mercato nutraceutico che in Italia è rappresentato dal canale principale che è quello della farmacia, cresce positivamente ed in progressione e si posiziona tra i top player nel podio delle aziende di settore. È con gioia quindi che siamo qui presenti e che anche in questa edizione possiamo premiare lavori di valore ed originale impegno e contributo. Soprattutto dopo oltre un anno e mezzo di pandemia in cui tra le fasce maggiormente colpite, oltre agli adolescenti, ai senior, alle donne, a molti altri che hanno sperimentato non soltanto isolamento sociale ma anche psicologico, c'è davvero bisogno di ottimismo e di ripresa. Come donna, come madre, come cittadina e come azienda, per cui ringrazio anche le collaboratrici e collaboratori che sono qui presenti, senza ognuno di loro il nostro successo non sarebbe tale. Desidero dare sostegno e con forza e appoggiare progetti come quello odierno, perché la solidarietà e la cultura sono sempre i motori di ogni risalita umana, sociale e professionale. Grazie. Grazie, dottoressa Caudullo. E diamo ora il benvenuto alla scrittrice Michela Murgia, autrice di romanzi che ci hanno regalato figure femminili potenti. Il suo romanzo, A Cava d'ora, edito da Inaudi, ha vinto il premio Campiello, il premio Dessì e il premio Supermondello. Con il podcast Morgana racconta storie di donne fuori dagli schemi, tutte diverse tra loro, controcorrente. Il suo ultimo recente saggio, Stai zitta, si concentra su frasi di uso comune che fanno trapelare il giudizio, la discriminazione, le ingiustizie perpetuate dalla società attraverso il linguaggio rivolte alle donne. Lasciamo quindi la parola a Michela Murgia per un intervento che mira farci riflettere sul ruolo del linguaggio nel costruire una società più paritaria. Buon pomeriggio a tutti. Devo dire che raramente mi sono trovata in una più felice coincidenza di cornice, di circostanza e anche di momento storico, perché quando parliamo del ruolo delle donne nella società parliamo di un argomento che per molto tempo è stato un argomento di nicchia. Una cosa di cui si parlava nei luoghi in cui le donne progettavano la propria autodeterminazione. Quindi neanche luoghi in cui tutte le donne erano presenti, ma solo quelle che potevano effettivamente agire delle azioni, delle intenzioni, delle progettualità in ordine alla propria realizzazione. Oggi questo è un tema invece molto più trasversale, che per certi versi ci piacerebbe pensare che domini l'agenda, come si dice ora, anche di chi progetta le politiche che dovrebbero condurre a una società più giusta, quindi dove nessuno sia più marginalizzato e nessuno veda più frustrati i propri sogni a causa di pregiudizi, a causa di ostacoli che non dipendono dalle sue capacità. Devo dire che prima di entrare in questa sala mi è stato fatto dono di una cosa che mi ha scaldato subito il cuore e un po' mi ha fatto anche arrabbiare. E questo opuscolo prodotto, redatto dall'Università degli Studi di Padova, appunto, generi e linguaggi, linee guida per un linguaggio amministrativo istituzionale, attento alle differenze di genere. Io partirei proprio da questo, cioè dal fatto che a un certo punto la sensibilità all'interno di questo luogo è tale che si produce un vademecum, è interno, quindi serve alla redazione dei documenti propri dell'Università, in cui si chiede che siano inclusi nel linguaggio i due generi. Non è una richiesta assurda e non è una richiesta inutile, perché fino a questo momento la questione del maschile sovraesteso è stata data non solo per scontata, ma è stata trattata come se fosse un dato naturale del linguaggio italiano. Cioè, si è sempre fatto così e dunque perché dobbiamo cambiare. Ha sempre funzionato e quindi perché adesso dovete avere questa fantasia di declinare al femminile tutte le professioni, che poi è anche cacofonico dire sindaca, dire assessora, dire ma perché dobbiamo pronunciare queste parole che ci stanno così male in bocca. Dicono persone la cui lingua italiana che tanto difendono ha espressioni come otorino la ringoiatra, però non vogliono dire sindaca perché è difficile, perché è complicato. Allora, io ogni volta che mi trovo a fare discussioni di questo tipo, non solo devo ribadire che tutto quello che ha un nome non esiste, perché non è vero, quello che non ha un nome esiste socialmente, ma esiste in una dimensione di negazione. Quindi non basta non esistere, che sarebbe già gravissimo di suo, le donne esistono in questo paese, esistono in una dimensione di negazione. Quindi tu cominci non da zero, ma da un blocco di partenza che ha davanti il segno meno. E sai che devi affermarti in un contesto dove non sei prevista e dove non esiste nemmeno un nome per dirti nel momento in cui tu arrivassi a raggiungere i tuoi obiettivi, se non appunto dentro quel maschile che si pretende rappresentativo di tutti. Quindi io su questo, come dire, assieme alle altre militanti e agli altri militanti, perché ci sono anche degli uomini che sono consapevoli del fatto che il linguaggio riproduce i rapporti di potere. Cioè il linguaggio è un'infrastruttura culturale non neutra. Riproduce esattamente le relazioni e i dislivelli di queste relazioni in cui noi tutti ci muoviamo. Quando parliamo di linguaggio stiamo parlando di comportamenti, non stiamo parlando di parole. Chi non vuole declinare al femminile le professioni di prestigio, perché su infermiera e cameriera non ci sono problemi. I problemi sorgono quando parliamo della rettrice, i problemi sorgono quando parliamo appunto della sindaca, quando parliamo di tutti quei ruoli dove è possibile agire un potere su qualcun altro, soprattutto magari su maschi, perché il problema è l'inversione del rapporto di potere. Il timore che è la sottrazione che hai praticato per tanti anni, ti si ritorca contro in maniera speculare. Quindi non è temuto l'equilibrio, è temuto lo squilibrio compensativo. Naturalmente, come dire, io non mi sento di rassicurare chi ha questo timore, anzi, gli consiglio di coltivarlo serenamente. Questo puscolo lo porterò con me, lo porterò con me anche nei luoghi in cui lavoro io, che sono luoghi dell'informazione, luoghi dell'editoria, dove non ho mai visto niente di così avanzato e quando si è tentato di fare qualcosa del genere mi sono sentita rispondere che le deva la libertà professionale delle persone che scrivono articoli di giornale, che scrivono libri, che scrivono testi che vanno al pubblico. Quindi nemmeno cose interne, diciamo, ma cose che contribuiscono a formare la sensibilità del paese, sempre meno, perché voglio dire, i giornali sono sempre meno letti, i libri sono sempre meno letti. Quando si dice uno scrittore o una scrittrice di nicchia è una frase che non significa niente. Anche lo scrittore che vende 300.000 copie produce qualcosa di nicchia in un paese dove ci sono 60 milioni di abitanti e soltanto, come dire, pochissimi leggono, i dati sono sconfortantissimi, 6 persone su 10 in questo paese leggono un solo libro all'anno e non vi dico qual è quel libro, tra l'altro. Ho pensato, prima di entrare un po' nel vivo di questa cosa, di contare un po' di situazioni, perché la resistenza che mi trovo sempre davanti è, va bene, ma non sono più i tempi di tua nonna, ormai siete dappertutto. E questa sensazione che le donne siano ovunque e continuano a lamentarsi di non esserci è diffusissima anche in molte donne. Quindi a un certo punto qualche anno fa ho preso la decisione di cominciare a contare e fare anche degli elenchi, quindi io adesso vi farò degli elenchi di persone che probabilmente conoscete anche in ambiti che sono quelli che frequento io, quindi non entro in tutti gli ambiti, però in quelli che frequento io sì. Il direttore di Libero è Senaldi, il direttore del giornale non è Sallusti, ma è Minzolini, però è Sallusti che parla a nome del giornale, il direttore del Corriere è Fontana, il direttore di Repubblica è Molinari, il Fatto è diretto da Marco Travaglio, il Messaggero da Virmancusenza, il Piccolo da Grazioli, il Tirreno da Vicinanza, l'Espresso da Damilano, Vaniti da Marchetti, Wired da Ferrazza, Internazionale da De Mauro, Panorama da Belpietro, solo due donne dirigono una testata giornalistica in questo paese, Norma Rangeri e Agnese Pini, parliamo appunto del Manifesto e della Nazione, quindi giornali o territoriali o talmente di nicchia da essere la nicchia della nicchia della nicchia dei giornali appunto. Le donne non sanno scrivere, le donne non fanno le giornaliste, le donne non sanno dirigere, non si sa, fatto sta che questa è la situazione nel mondo giornalistico. Si moltiplicano i convegni in cui i direttori delle testate trattano il tema dell'assenza delle donne nei giornali, sono parate ovviamente tutte maschili dove la contraddizione è sul palco e chi sta giù dice, cioè mi state prendendo in giro. Teatri stabili, per teatri stabili intendo quelli nazionali, quindi i teatri, i dieci teatri che sono considerati le punte di diamante dell'espressione artistica teatrale e culturale del paese. A Torino il direttore Valerio Binasco, a Genova Davide Livermore, a Palermo Pamela Villoresi, una donna, non abituatevi. A Roma Giorgio Barberio Corsetti, il Veneto, i teatri del Veneto sono diretti da Massimo Ongaro, in Toscana Stefano Accorsi, a Napoli Luca De Fusco, Lert, l'ente teatri dell'Emilia Romagna, Walter Malosti, in Sardegna Massimo Mancini, ci ho messo anche la Sardegna perché, benché non sia un teatro di interesse nazionale stabile, è casa mia, quindi anche in casa mia io faccio i conti, una sola donna su tutti questi teatri nazionali. Anche lì non ci sono le dirigenti culturali, non ci sono le competenze, certo che ci sono, però a livello apicale spariscono, non ci sono proprio. Tocchiamo un tasto doloroso, lo strega, che oggi celebra la sua conclusione, quindi sapremo chi è appunto il vincitore o la vincitrice, proprio mentre stiamo parlando si sta facendo la prima conta. I vincitori degli ultimi dodici anni, Tiziano Scarpa, Antonio Pennacchi, Edoardo Nesi, Alessandro Piperno, Walter Siti, Francesco Piccolo, Nicola Laggioia, Albinati, Cognetti, Scurati, Veronesi, in mezzo c'è Elena Janecek, una su dodici. Le donne non sanno scrivere libri, non scrivono romanzi, non pubblicano, vi giuro che pubblicano, ne conosco molte e tuttavia il massimo premio letterario italiano non riconosce in nessun modo la dignità diciamo di quello che fanno. Ora sappiamo benissimo che non è che lo strega premi la dignità letteraria, anche lì si tratta di rapporti di forza, però anche questo restituisce il fatto che all'interno di quello schema di rapporti di forza le donne evidentemente vivono rapporti di debolezza prevalentemente. Mi è capitato di fare un giro in Sicilia recentemente ho beccato un percorso turistico intitolato Strada degli scrittori e la mappa per i vari paesi nominava questi scrittori, se uno volesse fare un giro letterario in Sicilia dico, Sciascia, Pirandello, Camilleri, Tommasi, Di Lampedusa, Rosselli. Non esistono Dacia Maraini, non esiste Goliarda Sapienza, non esiste Silvana Grasso, Evelina Sant'Angelo, Maria Rosa Accu Trufelli, Stefania Auci, Di Falco, cioè queste le donne siciliane che voglio dire non è che Goliarda Sapienza non ci abbia lasciato niente niente, non è che Dacia Maraini sia proprio l'ultima, non ci sono. Nelle strade degli scrittori, gli scrittori per definizione sono maschi, anche quando sono femmine eventualmente. Inutile dirvi che su 84 rettori di università in Italia solo 7 sono donne, su 107 festival letterari e culturali vari solo 6 sono diretti da donne, questa è una conta che risale a due mesi fa. Uno direbbe vabbè il mondo dell'impresa però sarà sicuramente più rappresentato perché premia il merito, siccome le persone che ti dicono no le donne ci sono ti dicono vabbè però è importante premiare il merito allora l'impresa che dovrebbe avere l'efficienza come suo primo criterio premierà sicuramente il merito delle donne. Non proprio così, solo il 22% delle manager è donna però guadagna il 33% in meno dei suoi colleghi. Sono meno qualificate? Non proprio, i dati dicono che il 19% delle manager ha un dottorato mentre tra i maschi solo il 9% ha un dottorato. Quindi sono anche più preparate dal punto di vista degli studi. I dati sono Women in Business e Eurostat è un report internazionale quindi non è la casa delle donne furibonde ad avere messo il bollettino. Non vi faccio l'elenco in politica perché veramente lì sarebbe un pianto, mi rendo conto di stare dando delle mazzate in questa cosa però non è possibile fare diversamente perché se uno non conta prima poi non può progettare come fare a contare di più, mettiamola così. Il Consiglio Superiore della Magistratura fino a un anno e mezzo fa contava 24 membri nel vero senso della parola. Poi è successo quello che conosciamo, c'è stato un grande scandalo, c'è stato un problema anche di avvicendamento perché qualcuno ha dovuto dare dimissioni, sono subentrate sette donne. Di solito nei momenti di crisi le donne vengono inserite in queste situazioni perché sono considerate sacrificabili. quindi quando c'è un problema di, come dire, quando la situazione è incerta e non si sa come va a finire è difficile che un uomo rischi la carriera. Mentre per una donna si aprono degli spiragli e alcune poi magari ce la fanno però il modo di entrare è sempre quello di trovarsi davanti a una situazione in cui un uomo non vuole competere. Allora si apre la strada per te, diciamo. Naturalmente non abbiamo mai avuto una donna capo di Stato, neanche una donna capo di governo. Ci passano sopra il Bangladesh, la Liberia, la Namibia, Taiwan, Nepal, vabbè non vi faccio l'elenco ma si fa prima a dire quali sono i paesi con cui siamo in comune rispetto appunto alla negazione della competenza femminile in politica e nella gestione della cosa pubblica. Ora da cosa dipende questo? Perché un conto è contare, poi bisogna farsi delle domande. Le aziende più illuminate, quelle che progettano delle politiche di genere al loro interno ma anche soggetti non fuori dal mercato dell'imprenditorialità ma per esempio in quello della politica, quando si pongono degli obiettivi di parità o cercano di equilibrare in una misura superiore rispetto alla situazione in cui ci troviamo, ti dicono che c'è una forte resistenza delle donne stesse ad assumere ruoli apicali o comunque a farsi avanti, a proporsi, ad accettare una responsabilità, cioè che le prime a tirarsi indietro siano proprio loro. Te lo dice chi prova a fare una lista elettorale, ti dice è difficile arriva al 50% ma anche al 40% perché per ogni uomo che ti dice di sì tre donne ti dicono di no, quindi non riusciamo a convincerle a esporsi. Te lo dicono anche le persone che fanno i cacciatori di teste nelle aziende, non so se si chiamino ancora così o se ci sia già un nome in inglese che serve a identificare chi cerca le persone migliori a cui offrire i posti di lavoro più interessanti, anche lì a parità di competenze un uomo dice sì subito una donna la devi convincere e molte volte ti dice di no. Allora perché questa cosa perché anche davanti a una buona intenzione e una volontà di riequilibrio le donne resistono. Ecco io ragionerei un attimo sulla categoria di leadership in questo, nel senso che non è che gli uomini abbiano una attitudine alla leadership insita, innestata nel loro DNA dalla nascita, la leadership è un processo, non è che tu ti svegli una mattina e dici è ora comando, è ora guido, è ora oriento e traccio delle direttrici anche per altri, non funziona in questa maniera. Sette anni fa ad Harvard decidono di fare una ricerca specifica su questo, arrivando a conclusioni alle quali era già arrivata Elena Giannini Belotti negli anni settanta qui in Italia e cioè che partendo dal dato che ad Harvard ci sono più donne che si laureano prima e con voti più alti ma che cinque anni dopo lavorano per il loro compagno di banco o di posto meno qualificato, arrivano alla conclusione che tutto si gioca nei primi cinque anni di vita. Voi dite com'è possibile? Allora voi immaginate una famiglia colta, liberale, che decide avendo un bambino e una bambina, maschio e una femmina, di educarli con le stesse regole. Quindi immaginate la migliore delle condizioni possibili, una mamma e un papà che dicono noi li cresciamo uguali questi due bambini perché vogliamo un mondo migliore. Ora le regole sono uguali ma la penalità, l'infrazione delle regole non è proprio uguale, nel senso che questo studio di Harvard è complesso, ci sono tre persone che se ne sono occupate con diversi saggi, eventualmente se qualcuno fosse interessato darei anche i riferimenti di questa perché per me è stato illuminante. Praticamente se una bambina infrange le regole l'impianto punitivo è di tipo emotivo, cioè le viene detto non fare così perché dai un dispiacere. A mamma, a papà, io sono cresciuta in una famiglia, c'era mamma, papà, c'era nonna, io dovevo dispiacere a un sacco di gente quando infrangevo le regole, per di più eravamo molto cattolici, mia nonna era cattolicissima, per cui mi portava in chiesa, andavamo sotto il sacro cuore di Gesù con il cuore esposto, circondato da una corona di spine, mia nonna mi diceva lo vedi il cuore di Gesù, sono i tuoi capricci, tutte le volte che tu fai un capriccio Gesù piange e il cuore di Gesù sanguina, quindi avevo da bambina anche il peso diciamo del senso di colpa di far sanguinare il cuore di Gesù, cioè l'idea era non dare un dispiacere, cioè se fai così non ci piacerai più, non ti vorremmo più bene, ti vorremmo meno bene, ecco guarda non fare così che nonna non ti vuole bene, oppure tu non vuoi bene nonna se fai così, quindi nel momento in cui tu capisci che l'obbedienza e l'amore sono in un diretto rapporto di corrispondenza, diventi obbedientissima, perché la paura di mettere in discussione l'amore per i tuoi cari, il tuo per loro che loro lo pensino o il loro per te che tu non lo deduca nel momento in cui li vedi dispiaciuti per quello che hai fatto, innesca un meccanismo proprio psicologico che perdura. Per i maschi quando infrangono, cioè quando il bambino infrange le regole, non è che non viene punito, viene punito uguale perché siamo una famiglia liberale che ha fatto del prezzo delle decisioni le regole sono uguali per tutti, però c'è quel compiacimento per cui uno dice però che caratterino, è tutto suo babbo, preciso, anche io non mi facevo mettere i piedi in testa, anche io mi facevo valere, certo ha sbagliato, ha sbagliato di sicuro, però c'è nerbo e questo non lo metteranno sotto nella vita. Il bambino capisce, nonostante venga punito, che comunque c'è una sorta di compiacimento nel fatto che lui abbia infranto quel limite e abbia dimostrato di saper sfidare una regola, di saper infrangere un perimetro e per lui non c'è una penalità di tipo affettivo, cioè nessuno gli dice ci dispiaceremo, certo è fatto malissimo e verrai punito, però non è che mamma, babbo, non è Gesù, non ti vogliono più bene. Quindi questo piano qua di fatto agisce ancora nelle educazioni occidentali, soprattutto ripeto, in quelle che hanno un impianto patriarcale. C'è una variazione rispetto da paese a paese, in Italia funziona così ed evidentemente anche a Harvard funziona così, visto che la ricerca è loro. Quello che succede è che quando entri nel sistema scolastico, che è un sistema gerarchico, con delle strutture coercitive anche, chi è predisposto a obbedire avrà più successo. Quindi per tutta la scuola dell'obbligo e anche oltre, la diligenza, la condiscendenza, la puntualità nell'eseguire i compiti, assecondare le dinamiche di potere presenti, le catene di comando che ci sono, cioè le ragazze in fare questo sono bravissime, tant'è vero che vanno meglio a scuola, studiano di più, prendono voti più alti, stanno dentro l'incasellamento in modo più agile. Per i maschi è una fatica, cioè ci sono proprio delle statistiche che ti dicono che i ragazzi faticano a stare dentro le regole. Qualcuno dice è il testosterone, è l'adolescenza, no, è l'educazione, è l'educazione. Per loro infrangere le regole avendo, come dire, una penalità più bassa o comunque non così problematica da compromettere i percorsi, è un'azione più semplice, per cui l'insofferenza viene agita con più facilità. Ogni volta che varchi un limite però ti accorgi che oltre c'è un altro orizzonte. Quindi l'abilità di immaginare altri orizzonti si forma infrangendo regole, esercitando conflittualità rispetto a un sistema che ti chiede delle cose ma non ti penalizza se tu decidi di farne altre. Aumenta il tuo coraggio, non la tua competenza ma non è importante perché quando esci da scuola, quando esci dal percorso scolastico non è più l'obbedienza che conta. Quando entri nel mondo del lavoro non è l'obbedienza che conta, è la capacità creativa e anche l'autostima necessaria a dire non lo so fare ma ci provo, male che vada quando si accorgeranno che non lo sapevo fare l'avrò già imparato e poi se proprio non dovessi impararlo e non mi piacesse farò un'altra cosa. Questa cosa qui non ha a che fare con la competenza, ha a che fare con la struttura del sé. Ora questo meccanismo non funzionerà sempre così, sempre per tutti, ma in termini statistici funziona ancora. Per cui non dobbiamo stupirci se chi ha obbedito per 15 anni durante tutto il suo percorso scolastico poi non sa comandare quando esce. Non dobbiamo stupirci se davanti alla richiesta di una funzione, di un compito, di un progetto per cui sono richieste complesse competenze, la donna sia meno sicura e dica non so se ce la faccio perché ha varcato troppe poche volte il confine per sapere che anche lei ha le forze per andare e oltre. Le donne che riescono a fare questo fanno dei numeri che conosciamo, ma la stragrande maggioranza preferisce fare un passo indietro e lavorare da gregaria. Quindi non è che le donne non vogliono fare le leader, non è vero che non vogliono fare i direttori di quotidiano, che non vogliono fare, che non vogliono dirigere teatri, che non vogliono fare le presidenti della Repubblica. Non è vero. È vero che sono molto poche quelle che nella vita hanno avuto la chance di dimostrare che avevano gli strumenti per fare anche quello che non era stato loro insegnato. Perché è a questo che serve l'educazione. Non a insegnarti a fare tutto, ma a dotarti anche degli strumenti per organizzare i tuoi disensi eventualmente. Perché qui stiamo parlando di infrazione di regole. Quindi del tuo rapporto col dissenso rispetto al sistema in cui sei inserito. non insegnate alle ragazze a essere troppo obbedienti. Perché quello che succede è che costruite delle gregarie meravigliose e su ogni singolo palco salirà un uomo a prendere un premio e dirà che deve tutto alla squadra. È il paradigma delle Charlie's Angels. Solo che sul palco ci sale sempre Charlie, mai le Angels. Quindi si difendono così. Io quando dico scusate ma questo festival che sono tutti maschi invitati, vabbè ma la squadra che ha organizzato sono tutte donne. Non mi importa. Mi stai restituendo esattamente quello che sto criticando. E cioè che dice dietro un grande uomo c'è una grande donna. La parola chiave non è grande, è dietro. È dietro. Quindi su questo piano dico fate un lavoro egregio. Io quel vademecum lo porto in redazione domani mattina. Non so cosa succederà. Niente con ogni probabilità perché questi sistemi resistono. Non è una buona ragione per non premere comunque sulle resistenze. È più quello che ho imparato venendo qui in questa mezz'ora di qualunque cosa potessi dire. Mi conforta che esistano dei luoghi dove questo ragionamento si struttura anche nella formazione di generazioni che io ho 50 anni. Quindi sono tecnicamente morta dal punto di vista del percorso. Posso solo fare manutenzione delle consapevolezze acquisite. L'idea che qui dentro entrino delle ragazze giovani e dei ragazzi giovani che possano progettare un mondo differente, strutturato in una maniera più giusta per tutti, mi conforta molto e mi dà un senso di futuro che in questi due anni è mancato un po' a tutti. ce lo stiamo riprendendo. Io sono molto felice che un pezzo di questa ripresa sia passato per Padova, per questo posto e per questo progetto. Grazie. Applausi Ringraziamo Michela Murgia per il suo intervento. Sappiamo che altri impegni la stanno attendendo quindi la salutiamo anche e a proposito di giovani donne entriamo ora nel merito della cerimonia di premiazione vera e propria. Chiamo nuovamente sul palco la professoressa Annalisa Obwe che è anche direttrice del centro di Ateneo Elena Cornaro e che ci informerà sulle motivazioni che hanno condotto la commissione valutatrice all'identificazione della vincitrice della terza edizione del premio di studio. Allora questo premio ci fa sempre un grande piacere, ci provoca gioia e siamo contenti che questa gioia sia stata contagiosa oggi anche per Michela Murgia che da questo punto di vista è una persona che riesce a farsi emozionare ancora. È una bella dote questa, no? Allora, che cosa vi racconto di questo premio? Io vorrei prima di leggere le motivazioni che hanno condotto alla scelta della vincitrice ricordare che questo è un premio che si attribuisce e si assegna annualmente ai laureati e alle laureate di laurea magistrale della nostra università, a dottorandi e dottorande, giovani ricercatori e ricercatrici, le cui attività scientifiche di ricerca vengono riconosciute come portatori e portatrici di cambiamento, no? Che spingono un pochino in là il discorso scientifico, quello accademico e anche etico, no? Del modo in cui ci si pone nei confronti dei problemi della conoscenza, dei problemi delle applicazioni delle conoscenze per un futuro che speriamo più paritario. Ecco, questo premio quindi è un invito ai giovani, alle giovani dell'università a guardarsi indietro, a vedere cosa è successo prima, il passato della nostra istituzione da una prospettiva di genere, capire quali sono stati i grandi silenzi nella nostra storia, perché ce ne sono stati. Oggi noi stiamo scrivendo, abbiamo appena chiuso uno dei volumi dedicati alla storia dell'Ateneo degli 800 anni, presenteremo al Senato della Repubblica questo che è uno dei grandi progetti per le celebrazioni del 22, che è una collana di nove volumi appunto editata da Donzelli, fatta, scritta dai nostri storici giovani, giovani ricercatori ricercatrici, coordinati da un PI ovviamente più anziano e strutturato, ma che ci stanno restituendo delle immagini molto diverse da quelle a cui pensiamo per la nostra università. E c'è un volume che si chiama l'Università delle donne, in cui per la prima volta si narra nella presenza femminile di studentesse accademiche, anche da un punto di vista della storia culturale nella nostra università. Ecco, questo premio fa parte di questa voglia di riscoprire, di far parlare i silenzi e di dire sì, c'erano le donne, che cosa hanno fatto, che cosa hanno studiato, che tipo di ricerche hanno fatto, come si sono impegnate nel tempo nell'Accademia. Ecco, questo fa parte di questo lavoro di recupero a cui contribuisce anche questo premio, che però guarda anche al presente e al futuro e quindi guarda anche alle ragazze, alle giovani ricercatrici che stanno producendo sapere e scienza in università in questo momento e che gettano semi con il loro contributo per un futuro che apra alla prospettiva di genere. Il premio è un premio importante, la vincitrice riceve, o il vincitore riceve 5.000 euro. E chi decide chi vince? Decide chi vince una commissione che annualmente è nominata dal rettore che è composta da rappresentanti dell'università, dell'associazione alunni, dell'associazione amici e rappresentanti di Solgar Italia. La commissione si riserva anche il diritto di attribuire un riconoscimento, indipendentemente dal premio assegnato, a elaborati che sono ritenuti di interesse o meritevoli di interesse nel campo della nutraceutica, che è un settore in cui opera appunto Solgar Italia da oltre 25 anni, quasi 30, 30 l'anno prossimo, facendo ricerca e produzione di integratori alimentari di altissima qualità. Io mi sento di porgere un grazie davvero sentito sia a chi ha sottoposto valutazione i propri scritti e le proprie ricerche, che è la commissione che li ha valutati con rigore, con attenzione. La commissione era presiduta dal professor Luca Illetterati ed è composta dalla professoressa Gaia Spolverato, dalla dottoressa Beatrice De Vacco, dalla dottoressa Giada Caudullo e dalla dottoressa Elena Morello. La nostra segretaria verbalizzante Cristina Gottardi, immagino che sia qui, non lo so. Comunque insomma è una commissione che paradossalmente rispetto a quello che ha appena detto Michela Murgia aveva come presidente un uomo e chi ha fatto il lavoro sono state le donne, ma in realtà non possiamo neanche dimenticare che la parità funziona nei due sensi, no? Quindi vabbè, insomma, ci stiamo lavorando. Le domande valide prese in esame dalla commissione secondo i criteri di valutazione riportati nel bando sono state quest'anno 25 e i criteri di valutazione, come sempre, di solito in questi concorsi sono il curriculum vitae studiorum, il contenuto dell'elaborato in relazione alla sua coerenza con i temi del bando, l'originalità e il rigore scientifico, il grado di innovazione e impatto della ricerca svolta anche in riferimento alle metodologie usate e le prospettive e ricadure scientifiche e culturali nell'ambito di pertinenza delle ricerche e dei progetti svolti. Da queste valutazioni e dalla discussione collegiale è emersa con concordanza di giudizio, questo è dal verbale, lo devo leggere giusto, la decisione che il premio di studio intitolato a Elena Lucrezia Cornario Pescopio, Università degli Studi di Padova, terza edizione 2020, venga assegnato alla dottoressa Giulia Comunale con la seguente motivazione. Allora leggo una cosa che capisco per un decimo e quindi poi spero che Giulia ci racconterà meglio che cosa ha fatto nel suo lavoro, questo è quello che dice il verbale. La dissertazione dottorale di Giulia Comunale è stata discussa nell'ambito del dottorato di ricerche in ingegneria civile e ambientale dell'architettura e si intitola Lumped Parameter Models for Congenital Diseased in Sex Specific Cardiovascular Circulations. Il lavoro costituisce un contributo di grande rilevanza scientifica nel campo della medicina di genere e degli strumenti essenziali alla sua diffusione e al suo incremento. La tesi ha un evidente impianto interdisciplinare, in essa vengono trattati argomenti che hanno valore scientifico, sociale ed etico ed è testimonianza nel suo stesso svolgimento di un progressivo e decisivo avvicinamento ai temi della medicina di genere, rispetto alla quale apporta un contributo originale. Lo scopo della ricerca, sviluppata in collaborazione con cardiologi e cardiochirurghi pediatrici dell'Università di Padova, è quello di migliorare la conoscenza delle complesse condizioni fisiopatologiche e cardiovascolari. Nello specifico, il lavoro utilizza la modellazione numerica e in particolare modelli a parametri concentrati per indagare ed evidenziare complesse interazioni cardiovascolari in condizioni fisiologiche e patologiche. Si concentra sulla circolazione di Fontaine, sulla disfunzione ventricolare destra, sull'ostruzione del tratto di efflusso ventricolare, sulla modellazione cardiovascolare sesso specifica e sulla gravidanza. Il punto che ha attirato l'attenzione della giuria è soprattutto quello connesso alla modellazione cardiovascolare sesso specifica. È noto infatti che la ricerca medica si è concentrata in passato in modo prevalente su soggetti di sesso maschile, generalizzando i risultati di una ricerca orientata su una parte della popolazione, sulla sua totalità. La ricerca sesso specifica ha messo però da tempo in evidenza le differenze emodinamiche che esistono tra uomini e donne. Nello specifico della ricerca numerica però, i modelli sono spesso ancora calibrati con i tipici parametri maschili. Per superare questa lacuna e migliorare la consapevolezza di una ricerca orientata sul sesso, la tesi di Comunale sviluppa un modello donna specifico, validandolo con soli dati clinici femminili. Il modello è stato poi anche confrontato con un modello uomo specifico, il che ha evidenziato la necessità di considerare il sesso anche nella modellazione numerica e dunque, in termini generali, la necessità di una modellistica matematica più inclusiva. Se infatti sicuramente la medicina di genere ha conseguito negli ultimi anni risultati importanti e significativi, altrettanto non si può dire per la modellistica numerica, che spesso è ancora sviluppata secondo criteri che tendono a uniformare in direzione di una generalizzazione dei dati maschili le differenze di sesso e di genere. L'apporto di Comunale costituisce dunque, da questo punto di vista, una grande novità sul piano scientifico anche in vista di ricerche future. Visto il curriculum della ricercatrice e valutata la coerenza del lavoro presentato rispetto ai temi del bando, il grado di innovazione, l'originalità e le ricadute scientifiche e culturali, la Commissione ritiene che il lavoro condotto da Giulia Comunale, sotto la supervisione della professoressa Francesca Susin, sia molto ben costruito, fondato su una metodologia avvertita e innovativa e risponda in modo preciso all'esigenza di rinnovare i saperi da una prospettiva di genere, obiettivo e rinunciabile per l'Università di Padova all'istoglia del suo nono secolo di storia. Credo che Giulia Comunale si meriti con gratulazioni sincere da parte mia, da parte del magnifico rettore dell'Università, dell'Ateneo Tutto e anche un grande applauso. Gentilissime e gentilissimi, innanzitutto vorrei ringraziare l'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova, l'Associazione degli Amici dell'Università di Padova e Solgar Italia per aver promosso il premio Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Vorrei inoltre esprimere la mia gratitudine alla Commissione Giudicatrice, che ha assegnato il premio Cornaro alla tesi di dottorato che ho realizzato sotto la supervisione della professoressa Francesca Maria Susin, che ringrazio profondamente per il sostegno e il costante supporto in questi anni di ricerca. Sono veramente grata e onorata di ricevere questo premio, perché credo fortemente nella necessità di innovare i saperi verso una prospettiva di genere e inclusiva. Missione fortemente sostenuta dall'Università di Padova e dal Centro Cornaro e promossa anche attraverso questo riconoscimento. Il mio percorso di dottorato è stato caratterizzato da un processo di avvicinamento ai temi della medicina di genere, area della medicina che si è sviluppata a partire dagli anni Ottanta proprio per garantire parità di trattamento e cura all'intera popolazione. Infatti, gli studi che ne sono derivati hanno permesso di evidenziare l'impostazione androcentrica della ricerca medica, che in passato si è concentrata in modo prevalente su soggetti di dissesso maschile, generalizzando poi i risultati alla totalità della popolazione. La ricerca medica sesso specifica, invece, ha evidenziato le differenze nella circolazione sanguigna, dette anche differenze emodinamiche, che esistono tra uomini e donne e nonostante in ambito clinico sia ben diffusa la consapevolezza di queste differenze, la stessa attenzione manca nella ricerca numerica e ingegneristica. Infatti, ancora oggi, la prassi consiste nel calibrare i modelli su pazienti maschili, generalizzando i risultati a tutta la popolazione e trascurando le differenze che potrebbero esserci tra uomini e donne. Nell'ambito della modellazione cardiovascolare, questa mancanza risulta particolarmente diffusa. Infatti, i modelli sono spesso calibrati prendendo come riferimento un soggetto di 70 kg e 180 cm, cioè vengono utilizzati dei parametri che più facilmente rappresentano un uomo che non una donna. Per questi motivi, durante il mio lavoro di dottorato, ho sviluppato dei modelli sesso specifici, mostrando la dipendenza dell'emodinamica dai parametri di input. La validazione dei modelli con dati clinici sesso specifici ha evidenziato due aspetti. In primis, sono state confermate le differenze emodinamiche già rese note dalla medicina di genere, ma trascurate nell'ambito della modellazione numerica. In secondo luogo, ha messo in evidenza che nella letteratura scientifica esistono profonde lacune nell'ambito dei dati clinici sesso specifici. Quest'ultimo aspetto risulta particolarmente importante per sviluppare una scienza inclusiva, in grado di rappresentare la totalità della popolazione. Credo infatti che aggiornare i paradigmi della ricerca bioingegneristica significhi anche reclamare la necessità di dati clinici specifici per la popolazione da studiare, indirizzando la ricerca medica verso una completa conoscenza dell'emodinamica femminile. Per questi motivi, il mio lavoro di ricerca ha avuto due obiettivi. Da un lato, mettere in evidenza che gli studi numerici si focalizzano principalmente sulla popolazione maschile, perché penso che il processo di aggiornamento debba passare anche attraverso la presa di consapevolezza dell'impostazione androcentrica della ricerca ingegneristica. Dall'altro, attraverso modelli matematici, si mostra che il sesso è una variabile che può influenzare i risultati. Il trascurare inconsapevolmente questa variabile impedisce quindi una completa analisi critica della propria ricerca. Penso che grazie ad un'ampia diffusione di queste conoscenze si possa garantire equità di trattamento a tutta la popolazione. È proprio per questi motivi che questo premio è per me un'enorme soddisfazione, perché rappresenta una conferma da parte della comunità patavina che è il momento di aggiornare in modo più inclusivo anche le metodologie di ricerca in campo ingegneristico e numerico. Inoltre, il prestigio di questo riconoscimento garantisce un importante passo in avanti verso la diffusione nella comunità scientifica dell'importanza di una modellistica più inclusiva. Tutti questi tasselli rappresentano piccoli passi verso il raggiungimento della parità dei sessi. Credo infatti che il raggiungimento di questo obiettivo sia un percorso che si snoda attraverso diverse strade, alcune delle quali solo apparentemente meno dirette come la matematica applicata. Tuttavia, anche il più piccolo contributo è importante per il raggiungimento di questo obiettivo. Vorrei concludere ringraziando per il prezioso aiuto e il supporto che mi hanno dato in questi anni i colleghi del Dipartimento ICEA e in particolare tutto il gruppo di ricerca Hair Lab, tra cui il professor Paolo Peruzzo. Vorrei inoltre esprimere la mia gratitudine ai colleghi del Murdoch Children's Research Institute di Melbourne e in particolare al dottor Jonathan Paul Meinard per avermi ospitata, dandomi la possibilità di crescere sia personalmente che scientificamente. Un ringraziamento va infine alle persone che mi sono state accanto e ai presenti per avermi ascoltata. Grazie. Grazie. Grazie, dottoressa. Approfitterei di questo momento per il meritato successo per farle la foto di rito e la consegna dell'attestato. Chiamo di nuovo gentilmente la prorettrice. Grazie. Grazie. Grazie, congratulazioni ancora dottoressa comunale e come anticipato c'è un premio, una menzione anche nel campo della nutraceutica. Abbiamo qui la dottoressa Giada Caudullo, che è vicepresidente di Solgar Italia Multinutrient, che leggerà le motivazioni. Come previsto dal punto 4 del bando di concorso, la Commissione decide inoltre di assegnare a Valentina Scattolini un riconoscimento, indipendentemente dal premio assegnato per l'elaborato in oggetto, in vitro ed in vivo study of netosis in diabetic wound healing, con la seguente motivazione. La dottoressa Valentina Scattolini ha ottenuto la laurea magistrale in biotecnologie mediche ed un dottorato di ricerca cum laude in scienze sperimentali cliniche e mediche nell'Ateneo dell'Università degli Studi di Padova. La sua attività di ricerca si è focalizzata sullo studio delle alterazioni del sistema immunitario, in particolare dei neutrofili, in diverse patologie con base immunitaria, quale il diabete, la sclerosi multipla e l'utilizzo di molecole sia farmacologiche che nutraceutiche. Nell'ambito della patologia diabetica ha avuto modo di analizzare gli effetti di un farmaco, la metformina, sulla regolazione dell'infiammazione cronica nel diabetico. La metformina è oggi considerato un geroprotettore capace di rallentare i processi di invecchiamento, probabilmente attraverso la risoluzione degli stati infiammatori cronici e l'attivazione di vie di segnali antiossidanti, antinfiammatorie e immunomodulatorie. La dottoressa Valentina Scattolini ha inoltre analizzato in un progetto parallelo il ruolo della vitamina D nel cross-talk tra sistema osseo e sistema riproduttivo, rilevando come l'osteocalcina, ormone peptidico prodotto dagli osteoblasti durante la formazione ossea e dipendente dalla presenza della vitamina K2, contribuisca alla biotrasformazione della vitamina D nella sua forma idrossilata nelle cellule di Leydig del sistema riproduttivo. Questo lavoro va ad ampliare le conoscenze in merito al ruolo della vitamina D nel nostro organismo e la sua complessa regolazione, che si allarga anche ad altri sistemi come quello riproduttivo, rimarcando l'importanza di mantenere valori normali plasmatici di tale preziosa vitamina. Solgar Italia è perciò lieta di attribuire alla dottoressa Valentina Scattolini il riconoscimento della menzione nel campo della nutraceutica dell'integrazione alimentare a base di estratti vegetali, rinnovando alla candidata e vincitrice vivissimi complimenti, unitamente ulteriori complimenti alla vincitrice del bando, alla dottoressa Giulia Comunale. Grazie e complimenti. Grazie mille. Ho iniziato questo progetto nel lontano 2013, ormai mi sembra di aver iniziato la ricerca veramente due mesi fa. Abbiamo iniziato questo progetto molto ambizioso che coinvolgeva la sinergia di diversi gruppi con expertise in ambiti totalmente diversi, partendo da un gruppo di fisici, ingegneri che mettevano il loro sistema di microfluidica, medici nell'ambito del diabete e assieme abbiamo costruito e abbiamo iniziato un progetto molto vasto che siamo partiti da uno studio in vitro e siamo riusciti ad ottenere risultati anche a livello traslazionale perché non solo abbiamo testato questi farmaci e questi composti su un modello su cellule in cultura, ma anche su un modello animale di diabete e anche su cellule provenienti da donatori di paziente col diabete di tipo 2. Ringrazio i miei ex colleghi, il mio capo, il professor Fadini, che mi ha dato l'opportunità di seguire questo progetto e è stato un periodo molto intenso in quale ho portato avanti più progetti contemporaneamente appunto anche nell'ambito di un settore a me completamente sconosciuto all'epoca, appunto avevamo studiato l'interazione della vitamina D nel sistema riproduttivo ed era appunto tutto un altro argomento e io adoro fare ricerca, sono ancora in questo ambito dopo numerosi anni e non sai mai che sfide ti può portare, ti si presentano e adesso il mio studio attuale sulla sclerosi multipla e anche qui abbiamo un progetto molto vasto e sempre a livello traslazionale dove abbiamo l'opportunità di testare, questi non sono ancora farmaci ma sono molecole, vogliamo vedere gli effetti sia su appunto sangue, gli donatori ma anche provare e testare questi benefici su un modello in vivo per vedere appunto a 360 gradi i benefici di queste molecole. Vi ringrazio tutti per essere qui oggi e sono emozionata, forse l'ho già detto e ringrazio anche i miei genitori che sono qui oggi che mi hanno sostenuto dall'inizio senza pregiudizi e tutti i miei colleghi ex colleghi che mi hanno dato una mano a crescere sia dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista personale. Grazie a tutti. Grazie a te, ti chiedo di rimanere, chiedo invece alla dottoressa Caudullo se può consegnarti l'attestato e abbiamo il tempo anche per te per una foto di rito, grazie. Grazie, grazie. Grazie, congratulazioni alle premiate, vi ringraziamo tutte e tutti qui presenti in sale e anche chi ci ha seguito online e mi fa piacere ricordarvi che la quarta edizione è stata già lanciata del premio intitolato a Elena Cornaro Piscopio sostenuto dall'Università di Padova, dalle associazioni alumni e amici dell'Università di Padova e dal Solgar Italia Multinutrient. Il bando si trova nel sito istituzionale nella sezione premi e borse di studio per laureati e l'evento si chiude qui ma ci aspettano grandi eventi perché siamo alle porte dell'anniversario delle celebrazioni dei nostri 800 anni. Quindi seguiteci, seguiteci nel sito istituzionale, seguiteci nei social network dell'Università di Padova. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. 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 Grazie.